Ciao ragazzi, vedremo la rispettura che ha creato appena Leo, mini villaggio, vabbè, facciamo avvento che ci sia anche la maiuscola, ecco qui, qua bello. Perché ci hai messo una vista? È bellissimo. Penso anche se ho una carro. Ok, perché non mi fai entrare? Ok, ecco qui, un attimo, solo è troppo veloce. Oh mio Dio, da computer non è facile guidare da computer. Oh mio Dio, non riesco a guidare da computer. Niente, sono... Dai, come... Dai! Una cosa per migliorare ancora di più sarebbe metterci qui dell'acqua. Altrimenti che... Cosa se... Comunque, veramente... Tipo... Ce l'hai creato tu tutto? Sì, in così poco tempo. E dove hai trovato questa base? Che è questa base, cioè il pavimento. Quindi inizio cosa n'è a tutto. bella get it now ok avuto mangiare qualcosina vieni vieni che ti faccio vedere dove è l'apposforo aspetta ma è grande invece non l'avevo vista questa parte vieni che ti faccio vedere l'apposforo qua ma gigante ma io sono albostolo maggi più piccolo il mio solo piano Borger Bostu per cosa interagire? No, sei piccolo scompagioni soffi Abostori sfondiri, no, teckelsattu Sì, se voglio parlare devo cliccare qui I would like a black iPhone E me lo danno veramente? No, c'è l'ho No, questo lo... Voglio quello d'oro Ok, vado a scegliere il mio iPhone E' un pollo! E' un pollo! Svegna, forse, si postano anche preindri, forse. Non si postano preindri mér. Devi attaccare. No, vado a creare un'altra esperienza. Leo, Leo, vieni un'altra. Leo, prima di creare l'esperienza, ho appena pubblicato un'altra esperienza. Io. Ok, lo devo vedere l'altra esperienza. No, la faccio io, devi unirti da me. Un attimo che sto entrando nella mia esperienza. Creazioni. Tarica di più. Dovrebbe essere qua sotto. Ecco qui. Ecco qui l'esperienza che ho creato oggi. L'avventura si chiama. Mi sto entrando... È tipo la miniatura di quella cosa che hai visto. Hai visto? Ho messo due cartelli welcome. Come? Eh, fra di me, tipo... È maestro. 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 Allora vallo a caricare. Mentre che mangi vallo a caricare. Sto parlando con mio padre. Sto parlando con mio padre. Sto parlando con mio padre. Devi attac... Ah, hai detto dopo. Eh, lo so, hai detto ma... Devo andare a mangiare. Cosa è successo? Oh mio... Comunque a te cosa... Perché devi mangiare? Non posso mangiare, caro mio. Ciao. Eh... Beh, ragazzi. Tin, tin, tin.